Era un personaggio non di alto livello, era sicuramente una pedina in questo grande traffico di opere d'arte, mi piace vedere due fotografie, una con uno scudo e un'altra con la lancia, i due oggetti che sosteneva che erano stati trovati, presi dove c'erano i bronzi e poi venduti al Getty Museum.